L'intervento è di Monica Di Sisto, che è una giornalista esperta di commercio internazionale. Prego, grazie per essere qui. Penso che ci tenevo a ricordare anche prima del tuo intervento anche la questione della GKN, che ieri ha avuto una bellissima manifestazione veramente partecipata da migliaia di persone. Ecco, quel caso lì è veramente paradigmatico di un certo capitalismo finanziario che delocalizza un po' dove vuole, di cui tutti sei molto occupata. Quindi grazie per essere qui. Grazie, grazie a te, grazie a voi, grazie alla Fionda L'Indispensabile e a chi ha organizzato questo evento. Sì, infatti oggi non è l'altro ieri. Non è l'altro ieri perché se vogliamo che domani sia diverso... Io avevo preparato un intervento un po' più accademico, ma ve ne chiedo scusa, dopo varie ore con lo striscione del Firenze Social Forum del 2002 a guardare le stesse istanze, quella traiettoria che avevamo visto percorrere il futuro da vent'anni fa, da Genova, il futuro di quella globalizzazione senza regole, con quella classe media che si restringeva e si abbassava al livello minimo dei diritti e dei salari, francamente, non me la sento di rimanere così accademica, anche perché ho strillato che siamo tutti GKN e in parte io mi ci sento perché il mio unico è molto vicino a loro. E in mezzo a noi, in questa sala, io sarò un po' populista, forse, come diceva il professor Zocca, non ce ne dobbiamo vergognare, però ci sono tanti e tanti di noi che contribuiscono molto, come dire, a una dinamica, a una dialettica, a un'organizzazione, a una d'organizzazione, di quella resistenza che ci serve ad alcuna, anche a una narrativa, a riscriverla insieme, che stanno da quella parte del prodotto interno lordo, che stanno da quella parte dei redditi medi. E io penso che lo facciamo con dignità e lo facciamo anche rispettando noi stessi e le persone e la comunità che abbiamo intorno, però siamo un po' stanchi. Ieri, proprio camminando per Firenze, ripensavo che ci siamo trovati molte volte, come dire, a denunciare, ad analizzare i trattati internazionali, commerciali, fino all'ultima parola, però quando ci siamo ritrovati a casa con il lockdown, è lì in virus veritas. Noi eravamo a casa chiusi e i disinfettanti per le mani e le mascherine che ci servivano per proteggerci erano dall'altra parte del mondo. E quella è stata la chiara evidenza che il commercio internazionale, la divisione del lavoro, per come l'abbiamo pensata, non ci serve, non ci serve in un momento difficile come questo, non ci serve perché i nostri territori non sono autonomi. E questo non è un folle sogno sovranista, è un tema di sicurezza, è un tema di organizzazione dell'economia a servizio delle persone. E a me dispiace, ma una settimana dopo, le reti che hanno lavorato a Seattle si sono di nuovo riunite, come fanno tante volte, e l'hanno fatto tanto in questi anni, e hanno scritto all'Organizzazione Mondiale del Commercio, con la quale noi negoziamo, siamo registrati nel dialogo internazionale, l'abbiamo fatto con le global unions americane, con i sindacati europei, l'abbiamo fatto con le grandi organizzazioni che si occupano di diritti della salute, e abbiamo chiesto, come prima cosa, di utilizzare le stesse regole da UTO, non era una rivoluzione, per fare una deroga alla protezione della propria intellettuale, ma non solo per i vaccini, l'abbiamo chiesto anche per i respiratori, l'abbiamo chiesto anche per le tecnologie di ventilazione, che servono nei momenti di trattamento, di primo trattamento di questa terribile patologia. L'abbiamo ottenuta, secondo voi? Ci hanno risposto? Premendosi i nostri governi, addirittura Biden ha fatto un tweet e ha detto, beh, forse ci possiamo pensare. Il 14 settembre scorso, la Commissione europea, per l'ennesima volta, in un incontro informale, ha detto che non è possibile, perché se noi deroghiamo, come abbiamo già fatto per l'AIDS, a fronte di una pandemia, a quelle regole, i profitti in una fase di crisi si danneggiano, e quel danno si potrebbe ripetere un'altra volta, e un'altra volta, perché come spiegava il professor Zocca, questa non è una fase congiunturale lineare. Abbiamo dei cambiamenti climatici molto, che rendono, diciamo, il nostro contesto molto instabile, non sappiamo come affrontarli, gli investimenti che vengono fatti non vanno in quella direzione. E beh, che cosa, qual è la risposta che abbiamo dalle nostre istituzioni? Il silenzio. Ed è questo uno dei principali vulnus. Il problema non è avere o non avere, sì, è vero, è importante, ma l'assenza di democrazia che noi abbiamo riscontrato in questi anni è così forte che le stesse persone che si sono istituite sui nostri temi sono sparite. Noi abbiamo tollerato, abbiamo dovuto assistere proprio assolutamente sgomenti alle strategie. E voi sapete di che parlo. Abbiamo dovuto assistere ai ministri scovati dall'agenda di Vincenzo Scotti. Parliamo di questo, perché tra noi lo possiamo dire. E allora non è in questa guerra tra gli ultimi, tra le io ce l'ho, il passo non ce l'ho, che si gioca la partita in questo momento. La partita si gioca in quel campo, in quel terreno, che i lavoratori e le lavoratrici della GKN, che il 9 luglio scorso hanno ricevuto una bella letteranza, una parte di loro, la RSU, dicendogli, guardate, questo impianto non è più interessante per noi, perché non è che si ragiona su quello che producono e sul futuro di quella produzione. Loro, per esempio, hanno un futuro possibile con il Ducato elettrico. Beh, non glielo vogliono far mica vivere quel futuro, perché il fondo che li amministra, il fondo finanziario, ha deciso di fare altro. E quindi loro aspettano adesso per il 22 quella lettera. Ma loro non hanno detto salviamo GKN, loro hanno detto insorgiamo, hanno detto questo è uno spazio politico che dobbiamo agire insieme e lo dobbiamo agire insieme non dicendo caro Orlando, caro Luigi, caro Giuseppe, no, caro Mario. Loro ieri hanno chiuso la manifestazione scrivendo una lettera, diciamo, verbale a Mario, dicendogli, Mario Draghi, dicendogli, caro Mario, tu prima eravamo 100, poi siamo diventati 500, oggi qui siamo 40.000. Tu dacci i numeri, quanti ne vuoi? Quanti ne vuoi per convincerti che noi vogliamo continuare a fare il nostro lavoro, che i nostri territori sono dei territori industriali, però lavorando come ho lavorato io sul commercio internazionale ho scoperto che il nostro paese non ha una strategia industriale come sapete, come sa la maggior parte di voi da 20 anni, ma non è che non ce l'ha perché se la so scordata, perché se noi ce l'avessimo quando quell'azienda X e quell'azienda Y e quella confederazione di azienda Z va con la sua cartellina a dirgli noi dobbiamo fare questo e ci serve quell'altro, senza alcun motivo, se ci fosse uno spazio come noi chiediamo da almeno 15 anni dove si fa analisi, dove si parla di vocazione del paese, anche all'interno dell'Unione Europea perché noi non possiamo fare come la Francia o come la Germania che hanno una loro strategia? E no, perché altrimenti dopo devi dire no a quello, devi dire no a quell'altro, devi dire che l'interesse pubblico è un'altra cosa. E oltretutto con un falso senso dell'opportunità perché Eurostat, non un pericoloso rivoluzionario, nel suo ultimo rapporto sullo sviluppo sostenibile ha detto che, diciamo, negli effetti di spillover della nostra produzione in giro per il mondo, facendola molto semplice, chi produce e gli effetti di quello che si produce per noi nel resto del mondo, c'è un piccolo problema perché in Europa per i prodotti e i servizi che noi, diciamo, consumiamo ci lavorano in 25 milioni e 26, 25 e qualcosa e guadagnano circa 26 mila euro l'anno ma nel resto del mondo sui nostri prodotti ci lavorano 68 milioni di persone e sapete quanto guadagnano in un anno? 7 mila euro. Di fronte a una cosa di questo tipo non c'è GKN, non c'è interesse nazionale, non c'è Green Pass, non c'è niente perché i nostri diritti vengono assolutamente come dire posposti rispetto a queste dimensioni e allora con molte organizzazioni italiane proprio in questa fase quando si discuteva di recovery plan che insomma noi la trovavamo abbastanza suggestivo nella meravigliosa cornice di Villa Panfili abbiamo scelto di fare un picnic fuori e di dire vabbè non ci avete invitato ci autoinvitiamo e ci portiamo i nostri panini abbiamo cominciato a fare un percorso e l'ultimo messaggio che vi voglio lasciare è un messaggio di speranza perché quello che abbiamo imparato noi le 400 organizzazioni della società della cura che appunto provano a fare massa critica intorno ad alcuni temi abbiamo fatto un recovery plan alternativo secondo noi molto migliore di quello poi presentato all'Unione Europea anche in termini di numeri è che noi ci possiamo organizzare ma dobbiamo essere come le dita di questa mano possiamo essere diversi possiamo essere più lunghi più corti una signora non è bene che insomma si addentri in queste differenze che soprattutto in politica purtroppo contano e dividono e in questi anni hanno tanto diviso anche questo spazio però che queste dita dalle lunghezze diverse a un certo punto fanno così e non è che lo fanno per se stessi lo fanno per quello che è vicino per quello che porta lo striscione con te e per quello che a Firenze il 22 non sa che diamine di lettera gli potrà arrivare e allora noi dobbiamo come dire noi possiamo scriverla insieme a loro questa lettera a Mario Draghi però dobbiamo essere così perché altrimenti continueremo a perpetrare questi spazi bellissimi di approfondimento in cui noi da circa 20 anni abbiamo tutte le risposte però non le riusciamo a istituire neanche facendo la migliore delle advocasi possibili neanche scrivendo emendamenti neanche proponendo proponendo interi interi testi di legge perché chi poi entra là dentro non c'è il coraggio perché poi chi entra là dentro guarda al consiglio di amministrazione dove potrà andare appena quell'incontro è finito e queste cose le abbiamo viste per 20 anni dobbiamo fare un patto signore e signori dobbiamo capire se noi possiamo essere un pezzo di quella politica che nelle istituzioni e fuori sarà il cambiamento grazie 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 a tutti